Noi come amministrazione abbiamo lavorato tanto per la buona riuscita dell'evento, della festa e visto l'ottimo risultato non possiamo che essere orgogliosi. Grazie. Io vorrei ringraziare chi ha lavorato materialmente alla buona riuscita della festa, dell'evento, della stia e l'evento di Carlo Pesta Patronale. Non c'è scritto qui? C'è scritto. C'è scritto? Sì. E lo ringraziate a me? Io ho. Io ho. E come no? Come no? Ringraziati di nuovo. Guardi signor sindaco, signor sindaco, guardi, le posso dire che io li ho ringraziati e non mi deve insegnare lei come si fa per la vento e io li ho ringraziati. Brava. E mi ho ringraziato tutti. Quindi stia calmo, la ringrazio dei fiori, grazie infinite, si prende il suo momento e faccia il bravo. Grazie. Grazie. Decisami te, adesso. Brava. Vorrei ringraziare tutti le forze dell'ordine.